proviamo così, proviamo così ma porra puttana io non devo toccarle queste cose, ma cosa bella lì ma tu mi senti bene no ah ecco adesso, ok le mie orecchie, l'eco perfetto, adesso eco, ok prova, prova prova anche tu Emanuele, scusami prova, prova, sa ora si, eco della madonna oh, siamo in da, ok no, non siamo in dos buona, va, come al solito però non ho fatto un cazzo in buona sostanza cioè prima ho attivato una cosa che è, perfetto benissimo, un po' basso Emanuele non mi sembra sinceramente che bella camisa io ti dirò davvero eh dai, oh ragazzi è una è un pegno che bisogna pagare tutte le volte che ho l'ospite ora non toccare più un cazzo eh grazie, grazie al cazzo non tocco mai un cazzo è quello il problema grazie a 80 Black Prince Firenze ti si ama sì, anche per questo mi amate benissimo Manuele ma come un po' basso non sta parlando figa lui si sente ragazzi mi sentite posso urlare no no applausi non so da parte di chi chi è stato grazie dalla Serge ciao all'ospite di Cepri oh benissimo ragazzi dai lui è basso perché l'audio mi sa che proviene dalle casse ma com'è possibile no l'ho settato sulle cuffie no dicono che il mio microfono prende le le casse aspetta eh interlocutore attivo proviamo così prova un attimo a parlare scusami e non avevi prova prova secondo me adesso non è cambiato un cazzo però la camicia la fanno anche da uomo fa un culo grazie appatico 06 uguale vedi è uguale la stampa e la vegeta avanza ma papaculo cristo no uguale ancora oh io però non ho cambiato niente però siamo abituati dai va bene figa sennò quando partiamo è ora di chiudere esattamente ma si dai che la facciamo andare infatti ma anche perché cioè non live Emanuele è il relocutore attivo boh non vedo cosa anche perché questa è una roba riguardo la aspetta eh l'unica roba che posso modificare vale vale vamos vamos virbone al momento sbagliatissimo aspetta forse è questa prova ancora prova prova secondo me è questa adesso va bene grazie anche ai cari scingi vedrai che adesso ti diranno che va bene ma è compresenta come sempre benissimo ok ecco solo una cosa mia allora questa qua di sì ma che due coglioni però puttana dai cominciamo tanto si sente anche con l'eco sempre basso sì però il fatto è che porca madosca io non posso neanche mettermi in pre-live con Emanuele e settare le cose perché io lo sento da dio se voi non sentite ora un eco lui sì ma che due coglioni però eh audio capture proviamo così ah ah questo qui è il mio era meglio prima digli di parlare io sento se c'è qualcuno che sente bene però sta che attacca il modem ma va a far culo va avanti allora l'argomento di oggi è stato figlio di una tua mail che giunta anche alcuni giorni fa ma io ho avuto tempo stamattina o meglio non è vero io l'avevo letta ma stamattina ti ho risposto e metti le cuffie così togli il suo eco metto le cuffie così tolgo il suo eco sì però che due coglioni il problema è che se metto le cuffie ho paura che vada a prendere l'audio da questo figa di microfono delle cuffie eh wow cazzo wow cazzo un cazzo perché queste qua le ultime cuffie che ho figa con il eh con il jack sono anche con il microfono e il microfono secondo me va a rompere le palle aspetta eh arrivo subito queste queste vanno bene dicevamo allora eh aspetta attacca buono grazie a Belzebosk prova scusa io sì benissimo io ti sento benissimo dicevamo eh nasce da una tua proposta via mail sentiamo i tuoi speaker se adesso però non ti sentite più non sentite più Emanuele non lo sentiamo appunto quindi arriva davvero dai miei speaker e non capisco perché dio porco però che due coglioni tutte le volte provate ancora scusami Manu prova un attimo a parlare perché faccio un po' di prove allora questa live nasce da un amico mandato da Marco sabato scorso alla quale mi hai risposto oggi e abbiamo organizzato esatto e il tuo la tua richiesta era proprio riguardo God of War innanzitutto perché perché bella domanda perché ti ho sentito io ti seguo indifferito infatti è stata una grande sorpresa che tu mi abbia invitato perché sinceramente non ho neanche mai interagito nella chat e sono molto contento di quello però sinceramente praticamente ti ho sentito parlare varie volte diciamo un po' random di God of War e del fatto che non ti sia piaciuto l'ultimo capitolo confermo siccome recentemente diciamo da qualche mese a questa parte ho recuperato tutta la saga principale diciamo e ho recuperato l'ultimo capitolo su PS4 adorandolo allora mi sono chiesto dato che solitamente diciamo ascoltando le tue live ho visto che abbiamo gusti abbastanza simili volevo sapere di più sulle motivazioni per il quale non ti fosse piaciuto e appunto mi interessava sentire un confronto con qualcuno invece che avesse apprezzato questo risvolto della saga poi che tu abbia chiesto a me di entrare nella live è stato proprio bene aspetta prima però non ho capito una cosa tu hai prima di giocare all'ultimo diciamo per PS4 hai recuperato recentemente i diciamo la trilogia iniziale i giochi usciti sulle nelle generazioni precedenti esatto prima non li avevi mai toccati ok e cominciamo un attimo ad analizzare la prima trilogia perché dopo come chicca finale arriviamo a quello per PS4 assolutamente assolutamente sì quindi allora diciamo che io ho iniziato in autunno a recuperarla non recuperarla perché in teoria l'avevo già giocata ma non bene nel senso che non avevo completato tutti i titoli per esempio l'1 non l'avevo mai finito avevo finito il 2 avevo finito il 3 quelli su PSP anche ok e dovevo recuperare il 4 diciamo quello God of War quello per PS4 l'ultimo diciamo e quindi avendo una PS Vita ho recuperato la collection che hanno fatto su PS Vita dove c'è il primo e il secondo e ho iniziato da lì giusto perché volevo diciamo rientrare un po' nel mood della saga e poi appunto perché volevo finire il primo che non avevo mai finito quindi ho fatto prima quei due opinioni? opinioni anche con un'ottica di averli giocati a distanza di 15-20 anni quasi dal loro uscito originale eh sì allora opinioni allora il gioco in sé io l'ho trovato godibile nonostante gli anni comunque che sono passati alla fine diciamo è un action molto anche relativamente semplice anche se all'epoca era abbastanza rivoluzionario almeno da quello che è quella che era la mia impressione da ragazzino e quindi ancora godibili e secondo me il fatto che li abbia giocati su PS Vita un po' li ha resi in meno non erano ottimizzati bene secondo me specialmente l'analogico per schivare quando gioiava la difficoltà un po' più alta era molto penalizzante secondo me però come diciamo gameplay ovviamente la storia quella che diciamo ti affascina un po' la mitologia e la figura di Kratos quella è sempre godibile e quindi diciamo che ovviamente se adesso lo rigiocassi dopo aver giocato a 4 forse sarebbe più difficile però avendo iniziato diciamo al contrario senza avere un gioco diciamo next di questa generazione appena giocato è stato più più semplice certo quindi questa è diciamo l'opinione dei primi due poi ho recuperato il 3 in versione remaster su PS4 che avevo però già giocato giusto per un fattore di completezza della storia bravo così si fa giusto e anche quello molto godibile anzi ho trovato la remaster è veramente ben fatta alcune cose di luci un po' strane lo ho trovate ma potrebbe essere benissimo il mio televisore che non fosse diciamo tanto tanto adatto e ovviamente diciamo la remastered è come se fosse un gioco per PS4 per me non ho trovato particolari differenze con un normale gioco PS4 e poi arrivando al 4 è stato praticamente come giocare ad un altro gioco praticamente quasi completamente diverso se vogliamo però è stata una sorpresa piacevole e lì è proprio dove mi interesserebbe avere ovviamente possiamo parlare anche dei capitoli invece tanti mi fa un piacere però mi interesserebbe proprio avere il confronto con te perché scusami finisco un attimo questo pensiero per farti capire diciamo che io potrei essere stato un pochino influenzato dal fatto di averne giocati tre di fila e quindi che le meccaniche di gioco dei primi tre che sono praticamente identiche come dire non mi avessero stancato perché comunque l'ho continuato a giocare però avere quel cambio diciamo nella psicologia di continuità potrebbe avermi dato quella varietà in più che me l'ha fatto apprezzare capito invece tu avendoli giocati magari separatamente ti aspettavi invece qualcosa di più allineato con il classico e invece hai avuto qualcosa di diverso che magari ti ha lasciato un po' così non so se questo potrebbe essere un fattore no che ne pensi no e ti spiego il motivo allora nonostante come hai detto tu io li abbia giocati separatamente no praticamente al day one tutti quanti eravamo arrivati a un punto perché noi abbiamo parlato di trilogia ok però non dimentichiamoci i due che hai già citato anche tu su PSP più Ascension noi siamo arrivati a giocare cioè noi io sono arrivato a giocare per i miei gusti troppi God of War nel giro di relativamente pochi anni perché se vi ricordate tra il 2 e il 3 con il passaggio generazionale in mezzo di anni passati cioè di anni ne sono passati diversi no il 3 venne annunciato mi ricordo ancora del trailer e poi quando uscì finalmente fu senza utilizzare dei giri di parole particolarmente ricercati fu sborra dagli occhi no benissimo chiude la trilogia mi sta bene ehm ah ti premetto Emanuele che non voglio degli spoiler perché qualcuno l'ha già chiesto qua in in chat no se sarà una live spoilerosa quindi anche su 4 ecco stiamo stiamo un attimo attenti diciamo eh escono poi a raffica nel giro di relativamente pochi anni god of war 3 e c'è no limpus ghost of sparta e ascension così sinceramente del gameplay tipico di god of war ne avevo anche pieni i coglioni proprio perché sia erano usciti troppi giochi a distanza di poco tempo sia perché sì alcuni avevano delle sfumature più o meno profonde ma come qualcun altro scritto qua in in chat adesso i god of war erano tutti quanti ehm riassumibili in un quadrato quadrato triangolo è giustissima sta cosa detto ciò viene annunciato il nuovo capitolo di god of war viene annunciato contentissimo perché la saga va avanti una delle mie saghe preferite di sempre di sony creato su un personaggio seppur abbastanza basilare come caratterizzazione è comunque tutto sommato sia godevole godibile come personaggio sia ancora di più il gameplay del gioco che comunque dopo una serie di giochi usciti piuttosto ravvicinati fra loro da un gameplay molto simile erano passati talmente non dico talmente tanti comunque erano passati diversi anni dall'ultimo god of war a quello che sarebbe dovuto uscire per ps4 da farmi tornare la voglia di giocare a god of war escono i primi filmati il primo annuncio eccetera e si capisce fin da subito che sarebbe stato un gioco abbastanza rivoluzionato non dico rivoluzionario ma rivoluzionato un nuovo capitolo della saga di Kratos rivoluzionato benissimo mi sta bene mi sta bene anche che fin da subito si capisca che si tratterà di un gioco più ampio va bene adeguiamolo ai canoni più tipici dei giochi moderni ma nel momento in cui me lo sono ritrovato tra le mani sono rimasto spiazzato perché god of war il nuovo god of war è diventato un gioco in terza persona passami il termine alla gears of war cioè con un'inquadratura molto ravvicinata dal protagonista e con delle meccaniche di gioco meccaniche di lotta quasi più simili a un tps rispetto ad un action nudo e crudo come è sempre stato god of war e mi sta bene questa meccanica nuova particolare particolare se la vediamo legata ad un action ma mi sta bene quello che non mi è stato bene assolutamente è stata l'idea di voler implementare una mappa di gioco quindi un'area esplorabile quasi paragonabile ad un open world un open world più recente e che alla fine della fiera sì è vero che tutto quanto era abbastanza visibile sulla mappa e pseudo facilmente raggiungibile ma mi sta bene in un gioco che non è god of war questo god of war per me ha subito diciamo un forte decremento del mio giudizio finale riguardo proprio al gioco nella sua complessità proprio qua a causa di questo motivo e in più aggiungo anche che tutto ciò che non riguardava wow cazzo grazie a cari cario cario anche a bet the bosk che non mi ricordo se avevo ringraziato prima e anche a mario scusami se mi sono interrotto tutto ciò che non riguardava diciamo la quest principale quindi la storia fondamentale di kratos e di suo figlio per me non è mai risultata così tanto interessante da farmi innanzitutto venire voglia di esplorare poiché tutto quanto ma anche molto più banalmente farmi venire voglia di proseguire con le quest secondari è un po' il problema su vasta scala perché a god of war ci sono sempre cioè sono sempre stato affezionato a questa saga è il problema un po' che ha colpito anche horizon horizon è un open world tipico ormai in cui però una idea di base convincente secondo me è stata minata da delle quest secondarie da dei personaggi secondari per me assolutamente non interessanti e che quindi nel mio giudizio finale in quel caso lì è stato fortemente peggiorato è peggiorato fortemente proprio per questa presenza qua spalmata poi su un quantitativo di ore decisamente più dilatato rispetto a god of war però god of war che credevo di aver giocato per 40 ore passa in realtà poi dopo delle live angolari sono andato a vedere il mio salvataggio su tra i trofei eccetera ed effettivamente l'ho giocato per 20 25 ore quindi nemmeno un quantitativo di ore enorme ma che mi è sembrato quasi il doppio perché proprio mi sono rotto le palle bene bene c'è molto materiale credo di cui discutere perché praticamente mi sono segnato giusto le cose che tu mi hai menzionato che diciamo non ti sono tanto piaciute il fatto di open world eccessivamente allargato la storia i personaggi secondari e le missioni secondarie e in tutti questi punti io invece ho trovato delle cose in parte sono d'accordo con te specialmente forse sulla storia in parte però invece ho trovato del valore aggiunto in quasi tutti questi punti non so come la voglio impostare non mi sono non ho sicuramente come dire espresso bene un'altra cosa che anzi forse non l'ho espressa minimamente quello che rendeva tipico god of war che mi faceva sempre innamorare di ogni gioco che ogni capitolo in uscita era la sua immediatezza la sua semplicità cioè come dicevo prima riguardo kratos no è sempre stato un personaggio abbastanza basico infatti che devo prendere un bicchiere d'acqua perché sto morendo prego ragazzi vorrei leggere le vostre domande ma non vedo la cat non volevo dilazionare ottenere niente quello che volevo dire è che nell'essere semplice kratos io apprezzavo questa semplicità perché i suoi giochi erano tu vai contro il boss contro il boss contro il boss sempre più difficile sempre più incazzato otto ore è finito il gioco ci sta che abbiano voluto far maturare il brand insieme a far maturare kratos sia anagraficamente sia a livello di anche di personaggio se vogliamo però questa sua maturazione non è che poi mi abbia cioè è come se fosse stato tutto leggermente accennato cioè si hanno voluto dare questa connotazione più matura ancora più matura se vogliamo al brand alla caratterizzazione del personaggio così ma come cioè alla fine è diventato un gioco decisamente meno immediato perché con immediatezza intendo anche proprio dal punto di vista delle ore di gioco e anche delle ore in cui tu prima cazzo giocavi e basta qua figa cammini e chiacchieri chiacchieri per voler portare avanti questa questo rapporto con il figlio l'evoluzione del rapporto l'evoluzione del figlio stesso ma non è god of war ragazzi non è god of war non è o meglio non è quello che mi aspettavo da god of war seppur bla 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 è un gioco più lungo un gioco più ampio e tutto quanto ma non è più god of war per me ok quindi diciamo quelli che sarebbero i valori aggiunti per te minano un po' l'immediatezza del gioco e quindi di conseguenza minano la natura di ciò che god of war è sempre stato sempre stato god of war è sbagliato secondo me chiamarlo 4 perché vabbè innanzitutto non è il 4 ma loro non l'hanno voluto chiamare 4 proprio per dare questa sensazione di voler riscrivere da zero esatto un nuovo inizio solo che questo nuovo inizio è caratterizzato da delle meccaniche da delle tempistiche così che con me purtroppo non cioè che non hanno fatto breccia in me ecco ho capito ho capito e invece una cosa di cui ero curioso di sentire il tuo parere Marco era diciamo sul fatto della maturazione di Kratos l'ho capito qual è il tuo punto di vista invece sul rapporto diciamo che c'è tra Kratos e il figlio come l'hai trovato questo questo aspetto cioè per te è sempre un passo diciamo perché da come ne hai parlato secondo me è un'altra cosa che è un passo verso diciamo una cosa un po' più matura che alimenta diciamo la storia i sentimenti della storia però comunque non è una cosa che a te interesserebbe particolarmente in un God of War è corretto? allora è corretto è in parte corretto e cerco di spiegarmi al meglio non voglio offendere nessuno perché non è questa grazie Marco ciao mitico cercate di capire quello che voglio dire se io se io avessi avuto vent'anni ventidue ventitré anni nel momento dell'uscita di God of War l'ultimo per PS4 probabilmente avrei apprezzato di più questa maturazione di di Kratos il problema è che l'ho giocato quando non solo questo comunque rapporto in evoluzione tra i due protagonisti e si in evoluzione ma è comunque un qualcosa che ho già visto miliardi di volte in altri videogiochi o in film eccetera ma poi comunque è un qualcosa che si è più profondo rispetto ai God of War precedenti che era lui allo sbaraglio che squartava e basta ma non è comunque qualcosa di maturo è questo che sto cercando di far capire cioè non voglio fare cioè non voglio dire che sia un gioco per ragazzini e basta assolutamente no perché anch'io comunque God of War l'ho giocato che comunque avevo 30 anni quindi non proprio di primo pelo ma il sentimento la profondità di questo crescere di emozioni tra i due protagonisti con lui che pian piano diventa più che diventa più malleabile il figlio che diventa più stronzo ma cioè stringi stringi non mi da questa non mi lascia nulla ecco ok ok e non attenzione non voglio dire che sia colpa esclusivamente di me che invecchio che divento io più maturo e che mi faccio meno condizionare queste cose perché tutt'oggi escono dei titoli che invece da questo punto di vista riescono a emozionarmi o comunque mi danno l'idea di essere decisamente più profondi ecco ok per esempio mi spiace tornare sempre sul soliti cazzo di esempi ma un rapporto padre figlio come c'è stato in che poi non era padre figlio ma quasi nel primo The Walking Dead di Telltale secondo me è qualcosa di meraviglioso e anche lì sì l'ho giocato alcuni anni fa ma non ero proprio così giovane ecco e non avevo ancora figli all'epoca figlie quindi non non c'entra nemmeno il discorso del io che divento padre che quindi mi faccio fatica ad empatizzare con i protagonisti di questa di queste vicende ecco capito ecco per esempio Serge scrive a mio parere è un titolo stupendo le mappe danno la sensazione di open world senza esserlo veramente Kratos subisce una crescita porco diaz mi mi fa strano che a che a scriverlo sia un ragazzo dell'82 come credo dal Nick perché figa non non riesco a non riesco a mandarlo a Treus mi ha rotto i coglioni come Trico su è della Sgardian ma ho apprezzato molto anche questo aspetto non lo so non lo so non lo so non lo so ma cioè ci sta perché poi ovviamente chiunque ha un parere diverso ed è questo il bello del potersi scambiare le le varie opinioni però lui per esempio fa cita cito a Treus mi ha rotto i coglioni come Trico su The Last Guardian per me invece il rapporto tra Trico e il protagonista di The Last Guardian è la miglior rappresentazione mai vista tra un uomo e un animale a Treus non era un animale ovviamente quindi a maggior ragione è peggiore secondo me la cosa evidentemente e tu invece Emanuele cosa cioè tu adesso hai commentato ciò che ho detto io però dal tuo punto di vista per esempio anche tornando al rapporto Kratos a Treus ti è rimasto impresso positivamente ovviamente perché allora mi è rimasto impresso positivamente perché allora con attenzione a non fare spoiler mi raccomando diciamo il ti lasciano intendere che a Treus sia un personaggio con del potenziale ma che non è inizialmente ti sembra come ha detto l'altro ragazzo in chat prima che ti rompe un po' i coglioni perché sai è sempre positivo sempre sembra il bambino buono capito invece poi ti fanno vedere che anche lui c'ha qualcosa di che capito che richiama quelle che poi sono i i demoni di Kratos e quindi ti fanno capire che comunque ti stanno secondo me lo sai cosa è che dopo averlo giocato ho capito o comunque ho interpretato come loro hanno voluto presentare questo questo titolo cioè l'hanno voluto presentare come un titolo introduttivo dove non c'era nessun boom dove non c'era nessun molto meno spettacolare rispetto per esempio al 3 dove non cioè ti fanno vedere veramente poco e ti fanno andare veramente in pochi posti e dopo nonostante mentre lo giocassi mi sembrasse quasi una cosa negativa perché dico ok perché non fanno questo e non fanno questo che invece sarebbe più importante invece poi diciamo a posteriori guardandola nel lungo termine anche nella loro prospettiva cioè quella di allungare diciamo la longevità del del brand è una cosa che ha molto senso perché alla fine ti lasciano molti dubbi soprattutto sul personaggio di Atreus e di come si svilupperà perché in modo tale che ti spingano poi al prossimo titolo a comprarlo ed è questo è stato poi quello che è successo a me cioè quando l'ho finito ho pensato ok già non vedo l'ora che esca il prossimo non so tu come la vedi beh se non fossi curioso di sapere come proseguirà cioè se dicessi di non essere curioso riguardo il futuro del brand semplicemente sarei un bugiardo è ovvio però ho molta paura ho molta paura perché sono d'accordissimo con te riguardo il fatto che questo sia una sorta di capitolo ponte tra ciò che potrà essere cioè tra ciò che è stato e ciò che sarà il brand di God of War sia a livello di protagonisti o protagonista sia a livello di meccaniche e quello che mi fa più paura è proprio questo secondo punto perché se ci pensate nelle otto ore dieci ore dei primi giochi beccavi almeno dieci dieci otto boss avevi un boss all'ora più o meno di gioco in questo God of War che ho giocato per un quantitativo di ore doppio ma che mi è sembrato quadruplo i boss che erano la parte fondamentale secondo me di God of War sono carenti proprio perché appunto è un gioco nuovo e tutto quanto e quello che vuoi non vorrei che un domani cioè se il God of War dal 2018 è caratterizzato da 25 ore di gioco per vedere 4 boss principali un domani esca il God of War 2 con di nuovo 10 boss ma che per incontrarli mi ci vogliano 60-70 ore cioè va bene la come dire l'opzionalità dell'affrontare le missioni secondarie però cioè ragazzi non voglio neanche ritrovarmi a dover giocare per 80 ore un God of War o a giocarmene 30 ma lasciando la maggior parte del gioco schippato certo secondo me che altro Marco hanno fatto una transizione da diciamo boss tradizionali a quelle specie di mini boss capito che quello è un punto che anche io vedo a sfavore dove l'ho trovato piuttosto ripetitivi cioè i boss principali che trovavi nelle altre episodi della saga ce ne sono praticamente come hai detto sono tutta un'altra serie che sono come se fossero dei piccoli boss però non ti danno la stessa soddisfazione quando ti sconfiggi o comunque non danno la stessa varietà quindi su quello sono sicuramente d'accordo con te non so se capisci a cosa ti riferisco sì sì certamente però cioè anche lì adesso per carità da quando God of War 2018 è stato ambientato nel nella mitologia non rena tutti ovviamente sono diventati dei dei fanatici tutti conoscono quanti peli dal culo aveva Odino però consentitemi anche di dire per uno che non conosce la mitologia non rena che un conto è incontrare Ercole Mercurio Nettuno eccetera personaggi che bene o male conosciamo da sempre e sventragli le palle in quella maniera in questo ultimo capitolo mi è mancato praticamente totalmente l'epicità di quegli scontri perché sì c'è il il vermone tutto quanto però comunque una porzione minima su un gioco troppo dilatato continuo a ripeterlo come God of War ok ci sta infatti quello è parte di quel discorso che ti facevo prima dove mentre giocavo mi sono chiesto ma perché non c'è questo capito non c'è quel boss che che ti fai ti mettono diciamo quei due così un po' buttati in lì che sì ok però ti lasciano un po' quello è vero sono sono d'accordo poi cioè adesso consentitemi un minimo spoiler su God of War 3 sono passati anche mi pare undici anni cioè ma vuoi mettere l'epicità anzi no non faccio nessuno spoiler vuoi mettere l'epicità di avere quel post finale di un gioco ok che era il finale di una trilogia e tutto quello che vuoi rispetto all'antagonista principale di questo gioco per me assolutamente imparagonabili assolutamente quello sì se confronti diciamo il terzo con questo capitolo sono d'accordo però ti vorrei riportare al primo God of War sì cioè se tu guardi bene il primo God of War ovviamente con tutte le differenze del mondo però a livello di boss era già più simile a questo capitolo perché avevi quello finale diciamo non so se lo posso dire penso che sì ormai Ares dai lo dico io Ares alla fine e diciamo quello era il boss principale prima di quello avevi una serie di altri boss che erano sempre dei personaggi diciamo mitologici ma diciamo molto meno di rilievo e di conseguenza non necessariamente però magari meno appaganti da sconfiggere se vogliamo ok te lo passo meno appaganti però però stiamo parlando di un gioco di davvero quando cazzo è uscito il primo vent'anni fa adesso lo cerco 2003 God of War 1 anno d'uscita God of War 2 dal 2007 il primo è dal 2005 15 anni fa bene 2005 16 anni fa va bene avrà anche avuto boss meno importanti rispetto al 2 rispetto al 3 ma 16 anni fa quel gioco lì non aveva bisogno di avere i nomi dei boss perché era già magnifico per mille ragioni cosa che ovviamente col passare degli anni e con la gente che si abitua tra virgolette all'epicità di tutti questi scontri nel 2018 secondo me bisognava incidere maggiormente da questo punto di vista certo tempi diversi ebbe visto troppo ma per forza di cose dico anche diciamo che è quasi un controsenso però dal God of War del 2018 mi aspettavo di più e mi aspettavo di meno di più da quest'ultimo punto di vista di cui abbiamo parlato ora e mi aspettavo di meno da ciò che invece abbiamo detto prima troppo troppo sbrodolato e inutilmente io attenzione non voglio dire che avrei voluto un God of War come i precedenti perché io per primo mi pare anche di averne parlato in un video di secoli fa non avrei voluto l'ennesimo God of War identico ai precedenti l'ennesimo perché God of War alla fine aveva rotto i coglioni per come erano usciti gli ultimi capitoli e la quantità di la frequenza degli ultimi capitoli però le novità in cui io speravo con il capitolo dal 2018 non erano quelle che poi non sono state poi che mi sono ritrovato poi ped alla mano ho capito ho capito invece un altro punto sul quale non sono d'accordo con te Marco è sui personaggi secondari io ho trovato i personaggi secondari molto divertenti ben caratterizzati ti dico allora io non so l'ho giocato in inglese quindi ogni personaggio in inglese ha un accento diverso non so se in italiano è uguale per esempio c'è credo lo possa credo lo possa dire sono diciamo i non dirmi due fabri come? non dirmi due fabri quelli che i due fabri i due fabri dove sei? figa vengo a casa tua e ti prendo a testate porco dia dove sei? di dove sei? arrivo! di coglioni eh devi prendere l'aereo me sa Marco no vai avanti vai dopo ti ti dico sì io l'ho trovato molto divertenti molto diversi tra loro per esempio in inglese uno ha l'accento tipo irlandese l'altro più americano poi c'è sta diciamo l'altro personaggio secondario che ha l'accento tipicamente inglese e utilizzano tutto un gergo strano divertente a me a me non sono dispiaciuti e poi il fatto che ce ne fossero pochi di personaggi secondari e con i quali tu potessi interagire secondo me ti faceva pezzare ancora di più perché per esempio ci sono altri giochi dove ci sono dieci NPC in ogni area e ti rompi le palle a fare interazioni con tutti invece loro diciamo ci passi ti dicevano quella battutina non lo so a me a me sono piaciuti non so sono curioso se senti la tua opinione ma credo che siano stati odiosi rispondi prima a questa domanda quanti anni hai 26 26 hai 13 anni meno di me quasi 14 wow cazzo perché sono tanti gli anni benissimo grazie a game writing e anche a sebastian spirit e anche alcune armi ostia me ne sono persi un po' scusatemi perché ti ho chiesto questa cosa perché mannaggia il signore questo cazzo di god of war è fatto apposta per te ed è per questo che tu l'hai apprezzato maledetto tu e la tua gioventù e ti spiego il perché perché io da god of war non ho bisogno cazzo dei personaggi lolli questi discorsi qua cazzo li facevo con viper fritz nelle puntate i game fathers quando lui parlava di delle componenti lolle nei videogiochi più moderni e con più moderni intendo di almeno 5-6 anni fa che dovevano abbracciare più più spettatori possibili comprendendo anche i giocatori più giovani che godono di queste caratteristiche lollose io da god of war non voglio ridere non ho bisogno cazzo del personaggio divertente in qualsiasi gioco che io vada a giocare ostia non c'erano prima non c'erano dei personaggi del genere cosa che magari non mi ricordo io ma ci scommetto un tuo testicolo che non ci fossero anzi tu che li hai giocati decisamente più recentemente di me mi saprai dire c'erano dei personaggi divertenti nei god of war precedenti no mi sembra di no ne ha cambiato io ho 30 anni e li ho apprezzati hai comunque 10 anni meno di me e Cristo morto detto ciò perché dover inserire questi personaggi per forza la risposta è per far sì che tu li possa apprezzare il problema è che io ahimè non sono più il mercato il videogiocatore di riferimento esatto e quindi capisco il perché li abbiano inseriti e capisco perché a te piaccia trovarti dentro dei personaggi del genere a me no cazzo a me no non in god of war almeno no su quello sono d'accordo con te ci sta e secondo me ti dico anche un altro motivo per il quale li hanno fatti così e li hanno inseriti così perché diciamo se tu prova a toglierli dal gioco quanto sarebbe stato vuoto se non ci fossero stati quei tre personaggi secondari ma io vengo lì ma va fanculo cazzo perché non è che sarebbe stato vuoto sarebbe stato più breve più breve ed è quello che probabilmente io cioè adesso per carità non voglio far risalire ricadere la colpa del fatto che non mi sia piaciuto sui due fabbri per carità di dio però se parte del tempo che io ho dedicato alle loro missioni a ciò che richiedevano eccetera non ci fosse stato sarebbe stato un gioco sicuramente più breve e magari che io avrei che io avrei apprezzato di più ma ripeto capisco che le abbiano introdotti per standardizzare di più il god of war nuovo con appunto gli standard di oggi inserendo non solo dei personaggi più apprezzati da chi è più giovane di me ma anche perché così hanno reso un gioco più lungo facendolo diventare più apprezzabile da giocatori più giovani di me in buona sostanza sono io che sono fuori dal target di god of war è poco del nuovo god of war quantomeno è poco ma sicuro che poi adesso per carità vogliamo fare la punta al cazzo e facciamola la punta al cazzo cioè è vero che io mi ritengo fuori dal target di god of war ma attenzione perché sto giocando a dei giochi che mi hanno mi hanno e mi stanno intrattenendo per un quantitativo di ore decisamente più lungo di god of war non mi sento né fuori target e mi sto divertendo con questi giochi quindi non è che per forza io adesso debba bacchettare qualsiasi gioco over le 30 over 30 ore ecco ho capito ho capito ho capito vabbè ci sta ci sta a livello imprenditoriale comprensibile ma certamente ma io non sto criticando le scelte adottate in in quest'ultimo god of war sto solo elencando quelli che sono i motivi per cui a me non è piaciuto tutto qua qua dice se posso dire la mia da appassionato è la saga quando ho cominciato god of war su ps4 volevo spaccare tutto perché non volevo né un open world né giocare con una con una ascia di merda che ho apprezzato poi stavo veramente però non l'ho proseguito solo per amore verso la serie meno male direi perché alla fine l'ho adorato non riesco a capire come un gioco possa subire una variante tale una varianza tale di 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 considerazione perché almeno a mia memoria non mi è mai capitato di odiare un gioco reputarlo un gioco di merda e poi alla fine adorarlo no non ti è mai successo Marco di per esempio lasciare un gioco poi riprenderlo e però quando l'hai ripreso ti è piaciuto è diventato quasi uno dei tuoi preferiti si ed è Mass Effect ma cioè nel momento in cui mi hai posto questa domanda il mio esempio più evidente di questo mio cambio di di concezione è appunto Mass Effect ma perché innanzitutto perché lì è stata colpa mia nel voler cominciare il primo in un periodo in cui non potevo concentrarmi su un gioco così lungo così più che così lungo diciamo così articolato e l'ho abbandonato vaffanculo ma non non avevo detto che Mass Effect era un gioco di merda attenzione da subito ho detto che non era il gioco adatto a me in quel periodo punto infatti quando è uscito io stavo già facendo video e non ho mai messo Mass Effect in flop 10 per dire l'ho ripreso nel momento in cui è uscito il terzo quindi quando sapevo che la trilogia era conclusa e ho voluto giocare Mass Effect uno due tre come se fosse un unico titolo enorme e infatti misi al primo posto di una top 10 la trilogia di Mass Effect non solo il primo proprio perché l'ho inteso in quella maniera ecco è stato ecco figa noi stiamo attenti a non spoilerare spoilerare evitate di farlo voi nei nei commenti no porco cane non sono capace di eliminare vabbè a me God of War a me God of War non è piaciuto per l'estrema ripetitità dei nemici sempre lo stesso partner con Reskin diciamo che questo problema è più evidente nell'ultimo God of War rispetto ai primi anche perché è molto più lungo rispetto ai primi su quello sono d'accordo e inizialmente il fatto inizialmente sembrava che la varietà dei nemici fosse ampia molto ampia già il fatto che ti diano diciamo questo si può dire perché te lo danno all'inizio un diario dei nemici che fa pensare che ce ne siano chissà quanti invece poi in realtà sono sempre gli stessi quindi su quello sono d'accordo e qua ecco questa è una cosa interessante scrive alcune armi se fosse stata una nuova IP lo avrei apprezzato molto di più grazie a Patriot lo avrei apprezzato molto di più ma come God of War l'ho trovato troppo poco vicino agli altri capitoli non sono d'accordo cioè seppur io per primo abbia già ripetuto diverse volte che il non aver apprezzato God of War quest'ultimo God of War non è per la poca vicinanza ai primi capitoli è proprio per come è stato strutturato questo scusate sto guardando altri non parlo di setting ma più che altro di gameplay cambia la formula ma ne mantiene l'anima tu sei d'accordo con questa frase di croccodillo croccodillo cambia la formula ma ne mantiene l'anima no non sono d'accordo credo che ci sia anche un cambio di anima nel senso di diciamo quello che abbiamo detto prima sostanzialmente però credo che questo cambio non sia un cambio anzi mi correggo ma un'evoluzione anche in quel caso quindi un'evoluzione del gioco ma anche un'evoluzione dell'anima del gioco che secondo me ci sta però non è la stessa cosa dei primi tre o cinque capitoli vogliamo intendere tecnicamente sei sei sì giusto perché anch'io non la formula sì è ovvio che si è cambiata ne mantiene l'anima non lo so e non so neanche dire se possa essere considerata un'evoluzione sì ne mantiene l'anima dipende da che punto di vista guardi il gioco perché se dobbiamo ridurre il tutto a è un dio sulla terra che massacra i nemici sì è ovvio che viene mantenuto tutto è ancora così però con dei ritmi con delle meccaniche con dei processi decisamente variati non so se evoluti ecco secondo me diciamo l'anima del gioco dipende anche molto in questo specifico caso dal personaggio principale cioè c'è un cambio radicale dell'anima del personaggio principale e quindi secondo me per me quello mi fa già al di là del gameplay propendere verso un cambio anche di anima del gioco o un'evoluzione guarda che Ale Ferreri dice io voglio dare ragione a Farenz dandogli torto cioè questa mi è piaciuta non mi sono mai anculato God of War non l'ho mai giocato perché non mi ispirava poi ho visto i primi trailer dell'ultimo mi sono incuriosito l'ho giocato e amato capisco benissimo quindi che un fan degli originali al contrario possa storcere il naso sì però porca miseria è vero è il mio caso ma voglio che sia chiaro a tutti che io non ho storto il naso con l'ultimo God of War perché fan dei primi capitoli mi sono trovato spaesato con un gioco dalle meccaniche sensibilmente diverse ma proprio perché le meccaniche di questo gioco non mi sono piaciute punto le tempistiche più che le meccaniche perché dal punto di vista del gioco in sé mi piaceva ma non con queste sbrodolate qua tra un momento di azione e l'altro a livello di vendite come è andato beh non ho dati alla mano ma credo che sia uno dei giochi più venduti su PS4 mi sarei stupito dal contrario perché sia per i discorsi che facevamo prima cioè sull'appeal che ha avuto e che ha tuttora comunque sui giocatori più giovani sia per il nome che porta in copertina assolutamente sì a me sono mancate le boss fight e ne abbiamo parlato sinceramente fatico ad accostarlo il vecchio certamente sì faccio una domanda credete che avrebbe avuto lo stesso successo se fosse stato uno shoot em shoot em all shoot em all come è stato fino al 3 vabbè nella cazzata che è scritto secondo me intendeva dire credete che avrebbe avuto lo stesso successo se fosse stato comunque identico ai precedenti secondo me no proprio perché quello che avevi detto prima tu Marco cioè alla fine aveva stancato dopo le ultime ascensione eccetera secondo me no io non non posso rispondere né sì né no e ti spiego il perché innanzitutto perché dall'ultimo capitolo sono passati diversi anni e quindi magari la gente alla gente era tornata la voglia se fosse stato un gioco in linea con i precedenti ma epico come i precedenti e con i precedenti non intendo sicuramente ascension probabilmente sarebbe stato comunque apprezzato non so se sarebbe stato apprezzato tanto quanto questo nel caso in cui fossero mancate quelle meccaniche di cui abbiamo parlato prima che l'hanno avvicinato di più alle meccaniche apprezzate dai giocatori più giovani ho capito infatti una cosa che sarebbe interessante guardare è quanti si sono approcciati al brand con il nuovo cioè quanti capito in quel senso lì perché per esempio se la maggior parte delle persone si sono approcciati a questo nuovo allora secondo me non avrebbe avuto lo stesso successo se fosse stato come gli altri francamente diciamo successo in termini di vendita parlo di gradimento del pubblico poi ovviamente secondo me una minima parte ha cominciato a giocare God of War con questo dopo magari uno non li avrà giocati tutti per carità di dio ma secondo me sarebbe piuttosto da stronzi cominciare con questo calcolando poi che la PS4 già all'epoca consentiva di recuperare i precedenti come hai fatto tu poi alla fine tu hai giocato tutto su PS4 o no no su PS3 ah già su vita l'hai detto prima giusto non cioè non capisco il perché uno dovrebbe ma per carità ci sarà anche sicuramente chi ha cominciato così però sono da giovane lo sapevo principalmente sì diciamo dei più giovani magari la prima console è stata la 4 non ti vai a recuperare i vecchi dai sondagione finale che così poi chiudo anche la allora domanda hai cominciato a giocare eh ma vabbè figa però sì o no a God of War da God of War 2018 2018 sì no no ma non ho giocato tutti i precedenti ma non li ho giocati tutti non ci sta tutti lasciamo una T ok io ho iniziato col 4 l'autorecco chiamami stronzo sì sei stronzo io ho trovato interessantissimo il gioco e mi ha spinto ad approfondire la storia come cazzo è possibile non capisco no ma non li ho giocati tutti no è cominciato a giocare a God of War cazzo è ovvio che se uno intendevo che con la risposta no intendessi quindi li ho giocati tutti perché dopo ho specificato no ma non li ho giocati tutti secondo me non è così non è stato chiaro non è stato percepito io li ho giocati 4-2-3-1 citazione ok l'ho colta secondo me se avesse mantenuto la linea dei vecchi God of War non avrebbe avuto lo stesso appeal avrebbe perso paragonato ai vecchi titoli la mitologia non rena è affascinante ma trovo quella olimpica nettamente migliore non è questione di nettamente migliore o peggiore è questione di diffusione della conoscenza cioè chiunque conosce Nettuno conosce Giove e conosce già Odino e i surrogati sono sono decisamente meno conosciuti ho giocato solo a God of War 3 carino ma niente che mi abbia fatto perdere la testa lì dipende anche da che giocatore sei ecco se non ti piacciono cioè dipende cioè se ti piacciono gli action puri capisco che God of War non ti abbia fatto impazzire perché per me un action puro alla Devil May Cry o alla Bayonetta in cui fai mille combo sei stimolato nel portare a termine determinati obiettivi tipo concludere tutti i livelli a livello SSS per dire lo posso capire perché da quel punto di vista lì è molto basico God of War se invece non sei così schillato secondo me è comunque divertente da giocare lo è sempre stato a parte lui secondo me è forse uno dei pochi giochi che in realtà sono accessibili a tutti perché ha meccaniche un po' di tutto ma non eccessive di niente quindi mi sembra strano vabbè ma oggigiorno chiunque conosce Thor eh ho capito Thor e Odino basta secondo te una remastered secondo te una remastered dal primo e dal secondo sarebbe fattibile o il gameplay e la grafica del tempo risulterebbero troppo datate non è questione di troppo datate che figa un'altra remastered ancora cioè basta quante volte devono remasterizzare un gioco ragazzi è un gioco di 15 anni fa basta basta venirebbe bene ma io non lo giocherei God of War 3 è stato il mio unico platino addirittura da cellulare non mi fa votare comunque io ho giocato solo l'ultimo resto comunque scarso ma ho preferito Paragone assurdo lo so non c'entra nulla Diablo 3 che cazzo c'entra io ho saltato solo Ascension e hai fatto bene e ancora oggi non ho nessuno cioè lì già era un gioco secondo me che non doveva nascere a causa dell'epicità con cui si era conclusa la trilogia e che sicuramente sarebbe stata inarrivabile con questo nuovo capitolo barra spin off ecco e in più era un titolo anche tutto sommato 100% d'accordo soprattutto per l'online lasciamo perdere anche quella trovata assolutamente fuori luogo ma sì perché anche quello è stata una scelta di implementazione figlia della moda di quegli anni ecco dei tempi sì quello è vero fiero di non aver mai platinato un gioco bravo Robby io ho giocato solo il 2 ma poi ho deciso di prendere Assassin's Creed usato che cazzo c'entra anche questo vabbè secondo me tutto cambia con la motivazione di Kratos nei primi 3 la missione di Kratos era cercare vendetta tutto il contesto era di vero invece l'ultimo è totalmente l'opposto Kratos è sempre incazzato ma non è impulsivo ogni cosa che fa deve stare attento al figlio poi ci sono anche sì quelle sono delle sfaccettature della trama principale delle missioni principali secondo me abbastanza abbastanza azzeccate e mi riferivo a quello quando parlavo di evoluzione dell'animale e personaggio Ascension è stato in flop 10 non me lo ricordo ma a naso direi di sì e vince il no cioè non è stato il primo gioco con cui hanno cominciato la saga va bene ma dov'on non è mai stato concepito come action sfidante alla devil may cry come dicevi tu certo era un action che doveva intrattenere divertire lo faceva sì però comunque sia se voluto giocare a livello di difficoltà titano mi sembra era comunque in grado di saperti mettere alla prova in maniera interessante io stavo per spaccare la vita immagino immagino perché poi un conto è giocarlo con il pad e eventualmente lanciare il pad nel televisore ma lì avevi proprio il gioco tra le mani poi tra l'altro con questa transizione Marco ecco una cosa che ti volevo dire è che tu parli sempre di come la difficoltà sia cambiata nei videogiochi per essere più accessibili in questa transizione nella quale ho giocato dal primo all'ultimo ho notato questa cosa in maniera allucinante cioè la difficoltà allo stesso livello di difficoltà l'uno e questo di adesso cioè questo di adesso l'ho mangiato rispetto all'uno cioè l'uno mi ha devastato e poi tra l'altro quando l'ho provato anche a Titano lì proprio bestemmie proprio ogni boss ogni livello era una bestemmia certo ma non me lo sono posto sinceramente questa questa domanda anche perché ripeto essendo passati così tanti anni tra quando ho giocato i primi e questo magari faccio rischio anche di fare dei paragoni azzardati proprio perché non mi ricordo le sfaccettature però mi fido del tuo giudizio ecco non sicuramente più fresco e più fresca anche la tua giocata dei primi ecco va bene Emanuele io adesso staccherei ti ringrazio per la presenza e soprattutto anche per la pazienza dei primi dieci minuti di settaggio delle varie opzioni alla fine poi secondo me c'erano molti profumati che cagavano il cazzo e alla fine è andata bene così io ti ringrazio per la presenza per la compagnia per e anche per l'argomento perché comunque non l'avevamo mai portato in live va bene? grazie a te grazie a te per questo è stato un grande piacere grazie mille grazie a tutti quanti che sanno stati in live con noi ciao a tutti e alla prossima grazie a tutti